Io manipolo la tua mente Io condiziono i tuoi pensieri Io comando le tue azioni come se tu fossi un burattino Io ti sto lavando il cervello Tu sei nel mio pieno potere Tu devi avere paura di me Perché io sono il Baubau Ti faccio paura, vero? Eh? C'hai paura di me? Dici, lo ammettilo, scrivilo qui sotto nei commenti Oppure scrivi che forse è meglio che la faccio finire con questa buffonata e con questa maschera Perché tutto sto bordello? Perché questo video un po' particolare è iniziato con questa maschera da Baubau Cos'è il Baubau? Nella tradizione popolare italiana il Baubau è una sorta di uomo nero Quello che esce fuori dal letto, sotto dal letto Non so, forse da piccolo ti avranno infilato questa cazzata in testa Ma perché ho voluto usare questa maschera oggi? Innanzitutto benvenuto in questa nuova digressione casuale Come sai le digressioni casuali sono dei flussi di pensieri che mi vengono Sono appena tornato in Thailandia dopo un po' di tempo E già dopo qualche giorno mi viene fuori di getto questa voglia di dover accendere la telecamera E registrare che era da un po' che non mi veniva Perché sta maschera? E perché sta buffonata del Baubau? Perché tutto sommato ti sarà venuto a dire Questo è proprio scemo Ma questo davvero mi sembra un giullare di corte Ma in realtà è così Perché è quello che sono Alla fine io sono un giullare Sono un cantastorie Sono un po' un buffone di corte Sono un po' quello che sul web sta cercando di sdrammatizzare un po' tutto Di rendere le cose facili E ti porti qualche dubbio Eppure Eppure Sai qual è la cosa esilarante di questi giorni? Che ne sto sentendo di cotte di crude Questo perché? Innanzitutto facciamo un passo indietro Oggi sto registrando ed è, se non ricordo male, il 22 e il 23 marzo Il che vuol dire che tra qualche giorno Perché è il 15 di aprile Arriveranno i primi allievi O meglio, i primi viaggiatori Chiamiamoli così Della cellula 1 in Thailandia Ovvero Della Beckyland Di questo progetto che ho voluto creare in Thailandia Dove un po' di persone verranno Prima di tutto a farsi una vacanza E un'esperienza di vita Dopodiché io darò praticamente tutta la mia formazione Tutto quello che so Cercherò di passare Tutto ciò che è stato la mia esperienza Di crescita e di risveglio Così con l'obiettivo di creare una sorta di cellula sana In questo mondo malato Ma non è tanto questo di cui ti volevo parlare Perché tanto di questo trovi un po' informazioni ovunque O se vuoi anche sul sito qui sotto La cosa interessante che mi sta accadendo è che le persone che stanno per arrivare In questi giorni prima dell'arrivo si stanno confrontando con le persone a loro affianco Quindi con le persone a loro care Chiamiamole così Con le persone che dovrebbero essere così care Che dovrebbero volere solo il loro bene Cioè solo il bene delle persone che stanno per venire da noi E invece che cosa accade? Ne sto sentendo di conto e di crude Ma sto sentendo cose che in realtà Sono cose che ho già sentito E che probabilmente avranno detto anche a te Nel momento in cui ai tuoi normali amici Cominciavi a raccontare o a fare domande diverse Ti sarà forse capitato che Non so Con i tuoi normali amici Mentre sempre andavi a cena, aperitivi e cose varie Un giorno Dopo che hai cominciato magari a vedere i miei video O hai fatto altri percorsi Non lo so, è rilevante Se stai seguendo i video del salto quantico Chissà quale altra strada Scuola, metodologia Qualunque cosa ti possa risvegliare la mente Qualunque cosa ti possa mettere qualche dubbio Sui tuoi blocchi Sui tuoi limiti Sulle tue paure Qualunque cosa ti possa far venire il dubbio Che forse esiste un modo migliore per vivere E forse quello che ti hanno raccontato Non è proprio esattamente così Qualunque sia il mezzo con cui riesci ad arrivare A crearti questi dubbi Arriverà il giorno in cui O forse ti è già capitato Che parlando con i tuoi amici Magari di fronte a, non so Qualcuno che si è lasciato con la ragazza O con il ragazzo Che continua a invire contro Perché lui o lei è stronzo E di qua e di là Tu gli dici Ma sai Forse quella persona Ti doveva insegnare qualcosa Ti dice una frase del genere Apriti cielo Oppure peggio ancora Vabbè ma sai Ma sai che nulla accade per caso Comprendi perché ti è venuto quel dolore Quella malattia Quell'incidente Quella persona Quell'altra Qualunque altra cosa Apriti cielo Cosa stai dicendo Ma tu non capisci Quello strano Quella E giù ancora di parole Verso quella persona Che gli ha fatto male O verso chissà quale Cosa è accaduta Se non che per un certo punto Gli dici ma sai guarda Perché ultimamente Sto guardando dei video Sto leggendo dei libri Sto seguendo qualcosa Ripeto Cosa segui Non è importante Gli dici Ma guardati questi video E lì Arrivano Le paroline magiche Ah Attento Questa è una setta Ti stanno condizionando Ti stanno facendo Il lavaggio del cervello Ti stanno usando Come una marionetta Tu stai diventando Il loro burattino Vedi non pensi più Con la tua testa Stai pensando Con la loro Ti sarà capitato È vero o no? O se non ti è ancora capitato Fidati che appena comincerai A spargere un po' la voce A porre un po' di dubbi A le persone Che normalmente ti conoscono Questa in genere E questo è il programma Che parte in automatico Peggio ancora Se poi invece di Parlarne semplicemente Qualcuno gli dice Guarda vado tre mesi in Telandia A fare un'esperienza di vita Quindi se già Gli dici una frase E ti succede sto delirio Figurati se gli dici Vado via tre mesi Oddio E lì non solo scattano Tutti i programmi già classici Ma scatta anche Il programma più importante La perdita Del possesso E del controllo Della persona Che dicono Di voler bene Poi sappiamo ognuno di noi Che il possesso e il controllo È un programma Talmente diffuso E talmente radicato Dentro di noi Che la gente Non se ne rende neanche conto Ma Queste stesse persone Che stanno perdendo Il possesso e il controllo Della persona Che dice Che se ne sta andando Cominceranno Ad applicare Degli schemi Per rientrare Nel loro possesso e controllo E vediamo quali sono Questi schemi Perché tanto Bene o male Sono schemi classici Quindi Questo video Poi Ti spiegherò come usarlo Perché questa è la cosa divertente Di questa digressione Vediamo un po' Vediamo un po' Se conosci delle persone Che hanno applicato Degli schemi su di te Di questo tipo Tu hai iniziato A dire che Stavi seguendo qualcosa O che Stavi Oppure nel caso in cui Ad esempio Per chi viene in Telangia Che vuole venire Tre mesi da qualche parte O semplicemente Per chi di voi Avesse voluto Andare via Per un po' Di tempo Primo schema I sensi di colpa Vi sarà capitato qualcuno Che vi dirà Eh ma se vai via Io sto male E se vai via Come faremo senza di te E se vai via Come andrà avanti l'azienda E se vai via Mamma si ammala E se vai via Io mi taglio le vene E se vai via Io mi suicido E ho sentito di tutti colori Senso di colpa Senso di colpa Che cerca di Far attivare Quindi la persona Che sta perdendo il controllo Perché tu ti stai svegliando Perché in realtà Non so io che te manipolo Perché il video Di per sé non ti manipola Questo video non è manipolatorio È un video che al massimo Può risvegliare O forse al massimo Pense un calcio nel sedere Ma nel momento in cui Tu ti poni dei dubbi Ogni dubbio che ti poni È come se tu tagliassi Un filo Del Che ti lega Il tuo burattinaio Poi vedremo Chi è il burattinaio Ma bene o male L'abbiamo capito Quindi ogni dubbio Che ti poni Tagli un filo Tagli un filo Tagli un filo Tanto che dopo un po' Inizi a muoverti In libertà Non sei più Mosso come una marionetta Tipo Pinocchio Ma cominci a muovere bene Le mani Poi cominci a muovere Tutto il corpo Cominci a muovere la testa E a pensarla Nel tuo modo In un modo nuovo Non più comandato Da chi ti ha sempre comandato E quindi che cosa accade? Che tu cominci a svegliarti E chi inizia a perdere la stabilità Perché sta perdendo il controllo su di te Perché non sa più quali sono le situazioni Non riesce più a prevederti Non riesce più a controllarti Non riesce più a tenerti a bada Non riesce più a fare dei discorsi Che normalmente riuscivano a generarti Delle emozioni Così che ti potessero controllare Tu ti stai iniziando a liberare Da questo condizionamento Delle emozioni Che venivano causate Dalle parole O dai gesti Dalle azioni Delle altre persone Che ti vogliono controllare E quindi loro diventano instabili Iniziano a perdere il controllo O cercano di riprenderlo Quindi ti mettono il senso di colpa O meglio, riattivano il senso di colpa Che probabilmente ti è stato installato prima Se ti è stato installato Questa è una delle strategie Attenzione Quindi prima strategia il senso di colpa E ti dicono Tu mi farai stare male Io mi suiciderò Io mi ammalerò E n altre cose E' bello che questo è un paradosso Perché Se noi ci facciamo prendere Da questo gesto E da questa emozione E ci sentiamo in colpa Noi Diventiamo Talmente tanto Onnipotenti Da pensare Che una nostra azione O un nostro pensiero Possa condizionare la vita Di chi ci ha condizionato Inserendoci il senso di colpa Che è un paradosso Pensaci La mamma Che installa il senso di colpa Nel figlio Dicendoti Se te ne vai Io mi ammalo Ok? Quindi ha usato Questo sistema Per condizionarti Questo mamma Genitore Figlio Amico Amica Fidanzato Fidanzata Quello che sia Questo è uno schema Abbastanza classico Quindi io ti installo il senso di colpa Ti rendi Ti faccio rendere conto Che le tue azioni Mi fanno star male Quindi Io che non voglio farti star male Mi sento in colpa E non agisco E resto nel tuo controllo Questo è uno schema di controllo E attenzione Quindi Se una persona Ti installa il senso di colpa E te lo attiva In modo tale Che tu non agisci Con la tua testa Questo è il controllo E sono queste stesse persone Che ti dicono Che tu vieni controllato Da un video come questo Ricordiamoci anche il video Sull'attenzione selettiva L'attenzione selettiva Prevede che è quello Sulla telepatia E la digressione casuale Sulla telepatia Inizia con la telepatia Ma poi va a finire Su tutt'altri canali In quel video Spiegavo Che la nostra mente Proietta nell'altro O nella propria realtà Quello che lui conosce benissimo Quindi Se una mente Proietta su di te O su di me Che sono i baobau Il fatto che Io con questi video Ti possa controllare Probabilmente È lui per primo Le per prima Che ti sta controllando E quindi Pensa Che qualcun altro Possa fare Quello che lui o lei Sta già facendo Da una vita Attenzione Questo senso di colpa Che ci è stato installato Da questa stessa persona Che ci vuole controllare Ci dà questa assurda Capacità E quindi Quasi Da Dio Di condizionare La vita di una persona Cioè io faccio un'azione Me ne vado un mese Da un'altra parte del mondo Tu ti suicidi Se permetti Se permetti Sei gretino Cioè Fattelo di Perché Se tu davvero pensi Che la mia azione Possa condizionare la tua vita Non hai ancora capito niente Uno Perché stai mettendo La tua felicità Nelle mani di un'altra persona Cosa Errore enorme Due Perché in realtà Non sarà così Perché la maggior parte dei casi Nella maggior parte dei casi Non accadrà mai Quello che viene detto Che sarebbe potuto accadere Ma serve soltanto come deterrente Per tenerti sotto controllo Perché è una strategia Già funzionante Perché Diciamocelo tra noi Quante volte Nel passato Ti è capitato di Pensare Se questa cosa succede Io starò male a vita Se questa cosa succede Io morirò Se questa cosa succede Io starò malissimo Se questa cosa succede Io mi suiciderò E oggi Ripensando a quegli eventi Per te Drammatici In quel momento Ne sorridi Anzi Addirittura ne sei grato Come è successo a me Per esempio Per tutte le persone Che avrei voluto impiccare 15 anni fa Quando mi hanno fatto Dei casini in azienda E mi hanno buttato all'aria Tutto O ce li ringrazio Perché se non fosse stato Per loro Stare qua Quindi Attenzione ai sensi di colpa Perché è la prima strategia Quindi senso di colpa Ti dicono che A causa della tua azione Loro Staranno male O faranno delle azioni In consulte E tu Per non farli star male Perché pensi davvero Di avere questo enorme potere Di condizionare la vita Delle persone Che dicono Che io ti sto condizionando Non loro Tu pensi di avere Questo enorme potere Che Fattelo di Non ce l'hai Perché serve semplicemente Per mantenerti sotto controllo Tu non agisci E resti lì Nella tua brava zona di comfort Nell'attesa Che la tua anima Ti dia un altro calcio Nel sedere Per farti fare Un altro passo evolutivo Questo è il senso di colpa Quindi puoi scegliere Se crederti davvero Un Dio onnipotente E con ogni tua azione Manipolare Tutte le persone Che ti sono a fianco Quando forse A queste persone Dovresti fargli vedere Qualche video Per capire che Il potere Non andrebbe mai dato fuori Ma andrebbe tenuto dentro E la felicità Va trovata dentro E non fuori Ma va bene Oppure puoi scegliere Di appunto Fargli capire Alle persone E dargli uno spunto Di crescita E continuare Sulla tua strada Questo è il primo esempio Quelli che ti mettono Il senso di colpa Se il senso di colpa Non funziona Parte la seconda strategia Perché ovviamente Quando qualcuno Si sente perdere Il controllo Di una persona Che gli serve Per soddisfare I propri bisogni E non è che C'ha soltanto Una cartuccia Da sparare C'ha una nuova arma E la seconda arma E questa tra l'altro È tipica Del sistema Perché questo è Come al solito È come in piccolo Usi in grande La seconda arma È la Denigrazione E lo screditamento E quindi a quel punto Cominciano a Nel mio caso Perché poi chiaramente Io parlo per me Ma posso immaginare Che capiti anche In altre discipline Altri trainer Altri cantastorie Qualunque cosa Bene o male Il sistema è sempre lo stesso Cosa fanno? Cominciano a denigrare E magari si vanno a studiare Un po' Dio No perché guarda Ma c'è un articolo Che diceva Che lui 15 anni fa Faccia Oppure no Lui lo sta facendo Perché ti vuole lavare il cervello Lui lo sta facendo Perché ti vuole condizionare Lui lo sta facendo Perché vuole guadagnare Lui lo sta facendo Perché vuole fare una setta E farà E farà dei sacrifici Che ne so Ne sto sentendo Di tutti i colori Questi giorni Ed è veramente divertente Io ci rido Perché sinceramente C'è da riderci Ma ne scappava Sta digressione La dovevo fa Perché Da oggi in poi Io voglio essere il Baobao E quando mi trovate Non mi chiamate più Daniele Non mi chiamate più Qualunque maniera Mi volete chiamare Io sarò il Baobao Perché si vede che metto paura Io con sta faccia Posso condizionare E posso lavarti il cervello La cosa interessante Che potresti dire Alle persone che Denigrano Screditano Fanno quello che vogliono Quindi screditeranno Tireranno giù peste e corna Diranno di tutto di più Per far sì che Tu possa Diminuire La credibilità Verso di me O verso la persona di turno Che in qualche modo Ti sta in qualche modo Svegliando Quindi la seconda tecnica È la denigrazione E lo screditamento Se putacaso Neanche questa tecnica Riuscisse Perché i sensi di colpa Tu gli ti rilasso E gli dici Guarda che Il potere è dentro di te Guardati sti video Lo screditamento E la denigrazione Non riescono Perché a te Te rimbalzano Scivolano Perché non ti fai più Condizionare da fuori Ma senti le tue emozioni dentro Che ti guidano Sulla strada giusta C'è la terza arma Quella che Visto Che non posso andarci contro Mi ci alleo E improvvisamente Queste persone Che fino a ieri Buttavano peste e corna Sulla persona di turno Vengono illuminati Sulla via di Damasco E Vogliono Anche loro Crescere E seguire la stessa strada E certo Perché così Te li tieni dietro E ovunque vai Ti si attaccano Come una zecca Così possono continuare A controllarti Ma questa è la cosa bella Che tenderanno A vedere i video A cercare di capire Come io Che sono il Baobau Ti controllo Per cercare di utilizzare Le stesse tecniche Per riacquisire il controllo Quindi magari Ricominceranno A utilizzare le stesse frasi Le stesse terminologie Le stesse cose Ma non perché Le stanno imparando loro E si stanno svegliando Ma perché stanno cercando Stanno facendo Quest'ultimo disperato Tentativo Di controllarti E di ritornare Nella loro Zona di comfort Con te Bene Sotto controllo E che non dici più Quelle cose che dicevi prima O che addirittura Non te ne vai Dove te ne vorresti andare Che è la cosa Addirittura peggiore Quindi Queste sono le tre fasi Senso di colpa Screditamento Denigrazione Illuminazione sulla vita di Damasco Vengo anch'io Oppure ti seguo anch'io Oppure vediamoli assieme Attenzione Poi c'è La quarta Ipotesi Che è quella Forse migliore Quella dove poi speriamo Che tutti arrivino E che Quando queste prime tre Non funzionano Nella quarta Magari guardando i video Magari seguendo Quello che tu dici O seguendo i tuoi consigli O Perché Tu non esisti più Nella loro vita E loro gli viene davvero Un'illuminazione Cominciano a farsi Qualche domanda E facendosi qualche domanda Si porranno qualche dubbio Ponendosi qualche dubbio Cominceranno anche loro A tagliare i fili Del loro burattinaio Qual è la cosa più interessante? È che Se Qualcuno Delle persone Che dice di volerti bene E che vuole la tua felicità Di fronte a un tuo cambio Di stato Perché attenzione Questa è l'assurdità Della nostra società Nota una cosa Soprattutto nel mondo occidentale Se tu sei Incazzato Arrabbiato Triste È normale È normale Nessuno ti caga Passami il termine Ma Nel momento in cui Tu inizi ad avere dentro di te Gioia Felicità Serenità La gente ti guarda strano Ti dice Ma che c'hai? Ti vedo diverso Stai male Stai male Ma da ogni qua Stare bene Diventa un problema Cioè Io sto bene Io sono felice E tu ti preoccupi E questa è l'assurdità Del nostro mondo Oggi come oggi Se stai troppo bene La gente si preoccupa Prova a fare una cosa Quando qualcuno Ti stringi la mano Con qualcuno E Classica domanda Come va? Normalmente La persona di fronte Inizierà con tutte le sue paturni Di qua La crisi Il lavoro Blablabla Tu rispondi in questa maniera Splendidamente bene Con una risposta del genere Tu stronchi la comunicazione Perché di fronte La persona non può dire più niente Anzi io a volte Uso la frase Alla domanda Come va? Io rispondo spesso Mi vergognerei da sé meglio Detta una cosa così La persona Innanzitutto Gli vai in rottura di schemi Perché non è abituata A sentire una persona felice E poi gli è stroncato la comunicazione Non sa più che dirti Perché Non può iniziarti Con le sue paturni Perché c'è di fronte Uno che sta bene Ma non sia mai A dirti Ma come hai fatto? Cosa è che ti fa star bene? Si preoccupa Come stai bene? E come fai a stare bene? La cosa ancora più assurda È che se tu Mostrassi segni Di troppa felicità O troppa gioia Andresti sotto psicofarmaci Perché la troppa felicità È un problema È un problema mentale Ed è un problema da mettere sotto psicofarmaci Attenzione Mi è capitato anche questo Quindi non è che ti sto inventando le cose Mi ho sentito di cotte di crude So che sembrano Sono al limite dell'assurdo Però c'è anche questo in giro Quindi Quando qualcuno Inizia A usare queste tecniche Dicendo Usando queste tecniche Quindi sensi di colpa La denigrazione O l'illuminazione Sulla via di Damasco Per cercare di convincerti Che io Che sono il Bobao Io che sono il Bobao Ti sto condizionando Ti sto lavando il cervello Ti sto facendo diventare Una marionetta nel mio potere O qualunque altra menata ti dice Fagli vedere questo video Perché sai che cosa accadrà? Si ritroverà di fronte A uno Io Che gli sta raccontando Le tecniche Che lui ha usato inconsciamente Quindi due sono le cose E se Chi sta guardando questo video È uno di quelli che Ha usato queste tecniche Su una persona Che ha cominciato a porti dei dubbi Beh Due sono le cose O Io sono un veggente E sapevo esattamente Che cosa c'era nella tua testa O Nella tua testa C'è un programma Che hanno i milioni E tu sei il primo A essere stato condizionato Tu sei il primo Ad avere Un programma Nella tua testa Che Non ti permette di ragionare Tu sei la prima marionetta Perché stai usando delle cose Che stanno usando tutti È uno schema classico Non lo stai usando solo tu Ed è talmente tanto Classico Talmente tanto utilizzato Che te lo posso prevedere E quindi Se sei arrivato a vedere questo video Perché qualcuno Dei tuoi amici O qualcuno Dei tuoi cari Sta Diventando troppo felice Si sta svegliando E tu pensi Che Io lo stia manipolando Pensa che Se hai utilizzato Una delle tecniche Che ti ho detto prima Beh Tu sei il primo A essere manipolato Tu sei il primo A essere una marionetta Tu sei il primo Che stai ancora Pensando Con Dei pensieri Che non sono tuoi Tu sei il primo Schiavo Che sta Ancora Aiutando il proprio padrone A fare altri schiavi Come diceva Silvano Agosti Nel discorso tipico Di uno schiavo Lo schiavo Protegge il proprio padrone Perché è convinto Che è giusto così E tu stai proteggendo Il sistema Perché Il sistema vuole Che tu stia male Che tu sia controllato Che tu sia un consumatore Come spiego nei video E quando qualcuno Esce fuori da questo schema Tu Che non sei neanche Pagato per questo Cerchi di riportare E portarlo nello schema Dicendo a lui O a lei Che lui O a lei Sono condizionati Da me Che sono i baobau Dimenticando che sei tu Il primo condizionato Sei tu Il primo burattino Sei tu Il primo Che applica Uno schema Che applicano tutti Usando le stesse parole La raggio del cervello La setta Ti manipolano Ti condizionano Sono sempre le stesse È un programmino È un programmino È un disco Stonato Che vi hanno messo Nella testa Tutti E lo ripetete Convinti che sono pensieri vostri Rifletteteci su questo Invece di Andare a denigrare O andare a cercare Di convincere Quelle poveri amici O figli O mariti O moglie O compagno O quello che sia Invece di andare a Cercare di riportare Loro sotto il vostro controllo E sotto il controllo Del sistema Proprio adesso Che loro si stanno svegliando E si stanno liberando Da tutti questi blocchi Riflettici te A liberare te stesso Da tutti questi blocchi E rifletti sul fatto Che quella persona Che pensi Ti potrebbe far star male Questo potere Non ce l'ha Se non glielo dai tu Un nessuno Può farti star male Se non gli dai tu Il potere di farti star male E questo potere È una tua scelta È una tua convinzione È una tua credenza E se vorrai davvero Che questa persona Ti faccia male Andandosene O sganciandosi O pensando in un modo Diverso dal tuo È una tua scelta Sei te Che scegli di darglielo o no E sei te Che scegli di togliertelo Di togliergli questo potere Di prenderlo dentro di te Di nuovo Ma per farlo Devi imparare Per farlo Devi in qualche modo Cominciare a porti dei dubbi Per farlo Devi cominciare a tagliare Quei fili Di quel burattinaio Che ti controlla Non fare attenzione O cercare Di rimettere Quei fili A chi se li è già tagliati Prendi spunto Da loro Impara da loro Fatti guidare da loro Oppure Se vorrai restare Una delle tue convinzioni Allontanati da loro Perché forse Non è ancora il tuo momento E quando Magari tu Dici a qualcun altro Che qualcuno Il baobau Gli sta lavando il cervello Ricordati una cosa E chiediti Chiediti Anzi Ti chiedo io Quante volte Ti sei lavato In questa settimana Il tuo corpo Beh Probabilmente Diverse volte E allora La prossima domanda è Quante volte Ti sei lavato La tua mente Probabilmente mai Da anni Pensa quanta sporcizia c'è Ed è quella stessa sporcizia Che non ti permette Di essere felice Quindi Prima di andare a dire A qualcun altro Che io Gli sto lavando il cervello Forse Pensa Che anche tu Dovresti cominciare A lavare il tuo cervello Da tutta l'immondizia Che c'è dentro E che ti hanno infilato da anni Immondizia Che hai appena notato E uguale per tutti Quindi probabilmente Non è roba tua Ma è roba degli altri E allora Cosa dire Oltre a lavare il tuo corpo Questa sera Comincia a lavare la tua mente Magari Iniziati a vedere I miei video del salto quantico E ricordati che Tu Devi avere Paura di me Perché io Sono il Baobao